Musica Hello, how are you? I'm EkaD, welcome to this new video of a new series In this video, I will present a new series that I want to make Allora, questa serie la farò insieme a Victor e Master Wars Che è una skill carina, lol Io sono full diventato perchè ho killato un nab che stava dietro l'albero Assendo i suoi bisognini Comunque, questo video presenterò la nuova serie Guardate quanto è figo Victor e Master, lol Allora, questa serie la vorrò fare PVP in un server chiamato Frondevur Se ci siete entrati tutti in questo server Che forse farò video con voi Vi metterò il P in descrizione E... Niente, questa serie sarà di PVP La farò al... Lol, vero, io sono figo Comunque, è veramente figo Victor Comunque, la farò al PVP in... Victor è figo in Minecraft Ok, si, si, si Questa serie stavo dicendo la farò al PVP Insieme a Victor, Master Wars, la mia faccia, i cavalieri E... Niente, spero che vi piaccia questa nuova serie in arrivo L'altra serie in arrivo sarà con... In Spycraft con mio fratello E niente, ci vediamo nel secondo video di questa nuova serie Ciao Aspettiamo che saluto Ok Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo Ciao